Buongiorno croccodrilli, questa mattina occhio pecoro a gu 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 Mamma mia non si specorizza, è lui o non è lui? Certo, l'ho schiso, mamma mia stamattina Com'ha schisato, mamma mia che schiso, domenica mattina bella, bello anno, vabbè Sta pieno, mamma mia anche stamattina, sta pieno di figa Bambulotti, ancora non tirano Che si fa? Domenica si tira fuori il gioiellino Ecco i pazzi I pazzi delle otte e trenta I pazzi delle otte e trenta Ah, che bello Come ogni domenica, quando sono qua Un saluto a Lazzi già, che saluto a tutti i coccodrilli, ecco Che bei momenti insieme Sempre bello mantenere il ricordo vivo La domanda è Quale? Quale è la domanda? Ma come si comporta il ragazzo? Malissimo Stamattina vu? Perché adesso tenta anche di rubare le medicine sul borsello Nooo Ha tentato di rubare la medicina Guarda Che ci fa con te? Questa è un toccasano per la diarrea Ma è vero Questa è anche per gli emorroidi Questa è un toccasano Ha tentato di rubare la medicina Dio Dio è il socio Dio è il socio, mi dispiace Ci vuole una benedizione Provo che una benedizione ma chissà se gli fa bene Benedicus boi, sei impotente Non ci sono i figli Il mercatore può bestemmiare? Amen Calcia come la sua madre Se ti casca questa antola testa fa male se la spicchi Mamma mia Quello che ha detto Dici che non bestemmiare più Te lo dico io Va bene? No Ci sei nato con queste scarpe? Eh? Ci sei nato con queste scarpe? Affanculo! Ma eh! Anche scalzo? Guarda che capellino che hai fatto! Comunque, buona domenica a tutti! E buona domenica un cazzo! No! E perché? Con questa poccina! E perché? Perché Andriga è dentro? Ma che cazzo vuoi? Ma mi dici quei vuoi? Che stai a fare? E' un cazzo! Oh, bravo! Bello! Ma te stai a pettinare? Ve voglio farvi vedere giusto una cosa! Domenica a pranzo! Cannelloni! Mamma mia ragazzi! Guarda che spettacolo! Che spettacolo! Magna? Già stai a mangiare? Oh! Già stai a mangiare? Che caldo il forno! Eh? Oh! Che stai a mangiare? Niente! E come mai mastiche? Eh? Allora via! Allora trovare! Andando a... Massaggio live! Mamma mia! Raga! Sono una bontà! Pazzeschi! Oggi sgarro! Con la zuppina! Alla grande proprio! Oh ma stai sempre 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 a mangiare! Eh! Ma poi io mangio quanto cazzo mi pare! Maginbuk ha fame! C'è anche la trecciola! Chissà sa! Tu la vuoi la trecciola? Toh! 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 Magna la trecciola! Sì! Ti stampa le tue foto! Mmm! Le scioglie in bocca ragazzi! Tocca tutta! Ma che la tocca? Le tocca tutti i pezzi! Ma non ho toccato niente! Non ho preso di quello! Ci ho filtrato la polchezza e basta! Le toccate tutte! Come è la sorca com'è? È bella col pelo! Lungo! Nero! E riccio! Alla arriva fino al culo! Eh! La lezione è cominciata! Mi faccio una pennighella dopo sta mangiata! Anzi a spaccalossa! Ma se no come si dice? Boh! Cioè vedete ognuno ha il suo modo di dire un riposino! Perché dopo c'è padel! A very important match of padel! Questa è? I wanna know if I win! Voi saprei se perdo o vinco a padel! A Praga? A padel oggi! Io gioco a padel! Adesso contro una bella partita oggi! Vinco o perdo? Vinci! Vinci o vinco oggi? Sì! Perché? Che ti senti? Ti prude un po' il culo? Sì! Eh? Sì! Fai che scorreggio! No! Quindi oggi vediamo se il profeta Vate nonno Faustino ci chiappa un pochino oppure sicuramente sarà solo un birichino! Allora vediamo! Eh? Oh no! Oggi è dura! Vediamo se ci chiappa l'anno Faustino! Comunque voi che siete più esperti perché io ho iniziato tanto tempo fa poi ho smesso e sto riniziando! Che racchette ci sono oggi buone per iniziare! Ancora la racchetta non l'ho comprata, c'è una vecchia vecchia ma pesa 100 kg come ci vuole la pammaraccia di Sfarsneider! Quindi se avete qualche consiglio scrivetemi! Più o fra? Più! Ancora? Più o no? Più! No! Guarda sul cielo! Ma camina! Ma questo! Lascia sempre rompere il mio co***o! Ma che stavi a guardare sul cielo? La figa! Oh! Oh! Quello stavi a guardare! Oh! Basta che ti levi di co***o! Ah! Che giù ci sono cazzato! Ale! Pure! Sì! Ha giocato l'Italia! Fanno schifo! L'analisi della partita! Cosa? Serginio ha sbagliato anche il rigore! Chi? Serginio! Eh vabbè ci può stare! Eh certo! Però ho fatto un 0 a 0! E quindi? Quindi che succede? Quindi sono il buon affanculo! E dopo che fanno? Ah! Che bello! Eh vabbè! Ma che fanno dopo? Non so cazzi loro! Quelli sono io! Guarda come si è incazzato! Mannaggia il bambino! Eh! Battele! Cuccodrilli! Buonanotte! Ci vediamo domani! Vi ringrazio ancora per i vostri messaggi! Per il vostro calore! E... Niente! Ve lo salutà! Notte!